Ciao qui è Joe, di soluzione attrazione nel video di oggi rispondo ad una delle domande che ci avete inviato. La domanda è, perché la piccola presa per il culo è così efficace nella soluzione? Allora, se tu ancora non lo sapessi, la piccola presa per il culo è proprio una delle tecniche base, base, base per creare attrazione in una donna. Perché uso il virgolettato quando dico creare? Beh, perché semplicemente quando utilizziamo queste tecniche viene, diciamo, dal gergo stesso dell'industria e soluzione usato il termine creare attrazione. Io l'ho virgoletto perché in realtà non si va a creare un bel niente, cioè semmai si va semplicemente a, come dire, stimolare una trazione latente, perlomeno con questo tipo di tecnica. Ora, ci sono potenzialmente altre tecniche, come la tecnica della vetrina, di cui parlo da altre parti, se sei interessato vai a cercare altri video, a guardare altri video, che potrebbero eventualmente far capire maggiormente alla donna di che pasta sei fatto e quindi farle maturare interesse nei tuoi confronti. Ma questo non è il caso di questa tecnica di cui parliamo oggi, ma in generale comunque è più corretto parlare di andare a massimizzare, insomma, ampliare, per così dire, una trazione latente che almeno in minima parte c'è già minimamente nella ragazza nei tuoi confronti che tu vai a sollecitare nel momento in cui ti presenti, ok? Detto in altre parole, e per dire le cose come stanno, in buona sostanza, se tu ti aspetti semplicemente perché stai studiando questa roba di creare attrazione dal nulla, beh, ti auguro buona fortuna. Comunque, veniamo a noi, in buona sostanza, perché funziona questa tecnica che poi è il punto della domanda? Come prima cosa, beh, perché mostra alla ragazza che non ti senti sotto pressione di fronte a lei, e se ti senti sotto pressione di fronte a lei sei insicuro, lei pensa che è meglio di te, eccetera, eccetera, tutte cose che sappiamo che non vogliamo, meglio che lei non vuole, e di conseguenza è un problema. Ora, visto un altro punto di vista, cioè cercando di capire un po' meglio quella che è la mente inconscia della ragazza, questo è molto importante per una teoria legata alla sopravvivenza, fondamentalmente, che possiamo definire come teoria del boss e del dipendente. Cosa significa, in buona sostanza? Se tu ci tieni al tuo lavoro e non lo vuoi perdere domani, molto probabilmente se il tuo boss ti fa una cazziata, tu andrà in tensione, ok? Perché proprio a livello primale questo trigger avrà stimolare quello che è il tuo istinto di sopravvivenza, ok? Cioè, quindi l'andare in tensione di fronte a una persona dimostra che praticamente questo status dell'altra persona, che almeno è da noi percepito, è superiore al nostro. Ora, indovina un po' se tu praticamente le mandi questo messaggio, essendo intimorito, cioè per esempio non prendendola per il culo, che sei intimorito da lei, quindi che la percepisci come è stato superiore, in realtà ci saranno delle problematiche, ok? E oltre a questo comunque quello che fa questa tecnica è tutta una serie di altre cose, del tipo comunicare il fatto che non la prendi troppo sul serio, piuttosto che sei più lì a goderti la tua giornata, la tua serata, il tuo appuntamento, piuttosto che darle un'importanza troppo esagerata. E in più è un qualcosa che utilizzi solo quando ti senti a tuo agio nel mondo normale. Cosa significa? Sono certo che quando sei con i tuoi amici, in compagnia e c'è feeling, affiatamento, eccetera, eccetera, tra i voi vi fate battutine, vi prendete in giro, eccetera, eccetera, perché c'è rapport fra di voi, ok? E quindi è semplicemente normale essere rilassati e utilizzare pattern comunicativi di questo tipo. E quindi nel momento in cui la utilizzi con lei va anche ad aumentare quello che è il senso di rapport e di conseguenza lavora su due fronti differenti, cioè attrazione e rapport. E tieni presente che dal punto di vista del creare maggior rapport, per così dire, rientra in tutta quella serie di comportamenti che per l'appunto tu utilizzeresti solo con persone che, come dire, con cui ti senti a tuo agio. Ti faccio un altro esempio. Diciamo che tu sei durante un'interazione con una ragazza che ha appena conosciuto e dici cazzo. Qualcuno addirittura dice, sostiene, dibattibile ma corretto, in realtà, e ora arrivo al perché dibattibile, che in realtà dire cazzo, visto che tu non lo diresti di fronte a una persona che ti impressiona a forza dell'ordine, professore, mettici quello che vuoi, visto che per l'appunto non lo diresti ma è qualcosa che diresti in un contesto tipo con i tuoi amici, di nuovo, in realtà questo crea maggior rapport. Ora, in realtà questo è dibattibile, nel senso che dipende da ragazza a ragazza, nel senso che qualche ragazza potrebbe essere alienata dal fatto che tu subito ci butti una parolaccia perché ti considera un cafone, magari, se la ragazza è particolarmente di classe. Però, con la presa in giro, questo problema non ce l'abbiamo. Però, sto divagando, ti sto dando troppe informazioni tecniche. In buona sostanza, questo è quello che la piccola presa per il culo fa e questo è il motivo per cui è efficace. Quindi, se il video di oggi ti è piaciuto, ti è stato utile,